Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del PD per il 2021 perché rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo paese il buon governo. Per quanto riguarda me, la questione non è quella di un mio ripensamento che non c'è e non ci sarà. Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente a fare un passo in avanti nella consapevolezza di avere un confronto più schietto, franco e plurale, ma anche solidale sul ruolo del PD. Così Nicola Zingaretti ancora una volta con un post su Facebook fa sapere di non avere intenzione al momento di fare un passo indietro rispetto alle dimissioni dal segretario del PD annunciate ieri a sorpresa sui social. Una decisione che per idem è stata una vera e propria doccia fredda. La scelta di Nicola Zingaretti ci ha colto un po' tutti alla sprovvista. È comunque una scelta conseguente a quelle che sono state le critiche accuse per lo più ingenerose che sono state mosse nei confronti suoi e del gruppo dirigente nazionale in merito a quelli che sono stati i recenti sviluppi nazionali relativi anche alla formazione del governo Draghi. I prossimi 13 e 14 marzo si riunirà all'Assemblea del Partito, l'occasione per un confronto aperto tra idem per capire chi sarà il nuovo segretario che guiderà il PD. Che ci sia comunque un ripensamento e auguro soprattutto che questo gesto serva a richiamare tutta la comunità del Partito Democratico, iscritti, dirigenti, ad una serie assunzione di responsabilità. Le dimissioni di Zingaretti hanno ulteriormente destabilizzato il delicato equilibrio all'interno del Partito Democratico. Un forte senso di smarrimento legato alle recenti vicende, quelle che hanno portato alla caduta del governo Conte e dove comunque il protagonismo del Partito Democratico era chiaro, era netto, alla nascita di questo governo di unità nazionale con la Lega di Salvini. Non penso si possa parlare di colpe. I processi politici, spiega Zorzi, sono sempre complessi. Purtroppo la situazione che ci troviamo ad affrontare è una situazione che nasce certo per la spregiudicatezza di Matteo Renzi in Parlamento, ma che probabilmente viene da lontano, da una debolezza di fondo che non siamo riusciti a risolvere.